Ciao ragazzi, ciao ragazzi, qui su Svesteri e oggi siamo qui su un nuovo video bello con questa nuova videocamera ragazzi, sto con una videocamera, questa cosa va ho trovato una cosa fighissima, oddio guarda che figo oggi ragazzi siamo sulla prova a non ridere ok ragazzi, veramente sono troppo eccitato per questo perché ho la nuova videocamera, quindi è bello, è molto bello scusate se il mercoledì non è uscito il video ma ragazzi, praticamente il rendering non andava, veramente non capivo perché non andava il rendering comunque, ora andiamo a vedere certi video io credo che sono belli e noi andiamo a video un pinguino contro una foca oddio sei scappato oddio 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 Oddio! Ecco questo video! Oddio! Bel bimbo! Il vieno monoscavo con D-O-E Yeah, yeah, yeah! Hi! Stop, you're in! Nice, lad! Whoa! It's like... Oh! Oddio! Oh! Ah, oh, oh! Iscrivetele a zierve a doodoo Did I think that would be the same thing I did by the same thing? Yeah! Happy Hiii-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh-ergh. ho? non lo so ok oh che nissi oh Dio come se l'ha preso un gruppo eh la hai voluto tu frate oh che nissi oh Dio ok 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 va a finire male eh eh ecco la sincazza eh oh Dio oh Dio oh oh Dio oh Dio madonna no 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 ah i oh oh no oh a a un 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 Oh! Oddio, quando... Candivella! Oddio, questo va a finire male! Questo va a finire male Questo va a finire male È andato a finire male Oddio non è investito qua Ciao Oh shit No Il è un challenge Cosa 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 Oddio mio Non ci credo che l'ha fatto Cosa 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 Ok ragazzi, io mai avessi video può finire qua. Se vi è piaciuto commentate, lasciate un like, noi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo mercoledì alle 2 e mezza, ragazzi, ciao!